Visita presso l'ospedale Curto di Polla nel pomeriggio di ieri del presidente della Commissione Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha visitato i reparti e si è confrontato con il personale medico, affrontando la spinosa questione della chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri. Io penso che ci siano gli estremi per salvarlo. Noi faremo del nostro meglio, io già la prossima settimana insieme al senatore Castiello e chiederemo al Ministero o cercheremo di sollecitare quello che deve essere sollecitato. A mio avviso, a mio avviso, non dovrebbe essere chiuso. Lei ha visitato l'ospedale il punto nascita, qual è la sua impressione di Polla, Sapri o è simile? Io penso di aver risposto, nel senso che se io fossi di questo paese o di un paese di mitrofo, mia moglie partorerebbe qui. Io non so se c'è un balletto di responsabilità e francamente da chirurgo e quindi da tecnico credo che debba essere solo trovata una soluzione. Quindi la soluzione è cercare di non chiudere questo punto nascita. Ora le responsabilità probabilmente vengono da lontano, vengono dai tagli, vengono probabilmente dalla necessità di tenere i soldi per altre cose all'interno della regione che poi quando fai i tagli se i soldi sono quelli, sono quelli, non puoi trovarne altri. Credo che però una soluzione qui, in quest'area, debba essere trovata e voglio essere ottimista.